E chiamiamo sul ring, all'angolo blu, da Firenze, Salvatore Signorino! E chiamiamo sul ring, all'angolo blu, da Firenze, Salvatore Signorino! Salvatore Signorino! Contro di lui, da Genzano di Roma, Emanuele Tanti! Emanuele Tanti! Contro di lui, da Firenze, Salvatore Signorino! Salvatore Signorino, contro di lui all'angolo rosso con un record formato da 29 incontri, 16 vittorie, 11 sconfitte e due pari per lui, per il professional combat team da Genzano di Roma, Emanuele Tetti Manichelli. Grazie per la visione! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.